In questo video vediamo la recensione di X-SweepUp. Prima di iniziare con il video ti ricordo che trovi il link per acquistare il prodotto sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo! X-SweepUp è un robot pulitore che aspira, spazzola e pulisce contemporaneamente. È piccolo, pratico e silenzioso. Dotato di spazzole rotanti a V che possono pulire qualsiasi tipo di superficie. Il dispositivo è ricaricabile tramite cavo USB, compatibile con tutti i dispositivi. Dotato di batteria a lunga durata. X-SweepUp ha una costruzione super piatta che riesce a pulire sottomobili e divani. Il suo segreto consiste nel potente aspirapolvere che risucchia tutti i detriti che incontra sul suo cammino. Si muove automaticamente mentre aspira, spazzola e pulisce, evita da solo gli ostacoli. L'aspirapolvere è integrato all'interno del corpo del robot e così potente da poter risucchiare un'ampia gamma di detriti e sporcizia. Ti lascio al video di presentazione. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti